Allora, io creo che la premiera cosa che si deve dire è che l'uguaglianza non è un dato della natura. L'uomo primitivo non crede nell'uguaglianza. L'uguaglianza è stata una conquista storica e la storia dell'umanità è la storia di un essere umano asociale che via via impara a diventare sociale. Attraverso la politica. La cosa drammatica è che oggi questa conquista sta tornando indietro e stiamo tornando sempre di più all'uomo asociale primitivo. C'è un'importante storica italiana, Rita Di Leo, che adesso ha scritto un libro drammatico che si chiama Da Lenin a Zuckerberg. E nel libro si descrive come l'uomo via via, attraverso la soggezione agli algoritmi, stia diventando di nuovo totalmente asociale. L'uomo è un dato natural, è a dire che l'uomo o l'uomo quando nasce è asociale, che non percebe o non percebe, non ha inclinazione a la igualità. E lo che acaba producendo mecanismos di igualità è la politica. E che, per lo tanto, la igualità è una conquista di la politica, una conquista che ha sido molto dura di alcanza. E citava, dicia che questa conquista sta volvendo attra, in ogni caso si sta volvendo attra in questo senso, e citava il libro di Rita Di Leo, che è una storia italiana, che ha un titolo abbastanza significativo, che è di Lenin a Zuckerberg. E allora, il libro explica come si è passato di una situazione in cui aveva lazos, una solidarietà abbastanza importante, è la volta all'uomo asociale, o all'essere umano asociale, perché sta, diciamo, sometito al potere di un algoritmo. In questo senso. Il risultato è la disuguaglianza, che è cresciuta sempre di più. E io non vi annoierò con i dati, che conoscete benissimo. Ho sentito oggi quelli della disuguaglianza spagnola, quelli dell'Italia, sono altrettanto drammatici. E però a me mi ha colpito più di tutti, fra tutti i dati sulla disuguaglianza che ho sentito, quello relativo a Londra, il massimo del capitalismo vincente, e che è stato calcolato sulla metropolitana di Londra. Se si prende la metropolitana alla linea Jubilee, che va dal centro verso la periferia est, a partire da un certo momento, ad ogni fermata della metropolitana, si verifica che in quella zona ci sono ogni volta sei mesi di meno di media di vita possibile. Quando si arriva, infine, sono anni. Si vive di meno perché si è più poveri. E questo calcolato sulla metropolitana fa davvero impressione. Decia evidentemente che i risultati sulla disuguaglianza sono molto clari. Oggi ho ascoltato i d'Hospitali, che sono cada una volta più preoccupanti, e dicia anche i d'Italia, diciamo, più o meno, per lì, per lì. E explicava anche che i più chocanti sicuramente sono i di Londra, e explicava come si ha fatto un studio in cui si demuestra che se coge il metro di Londra, in la linea Jubilé, che inizia per il centro e inizia in la periferia est della città, per ogni parada che ci siamo dal centro hai sei mesi di vita meno. Con lo quali, come tutto il mondo saprà, sì, sì, sei mesi. E, per lo tanto, come tutto il mondo saprà, come la linea metropolitana di Londra che ha avuto moltissime parate, da il centro fino alla linea in la periferia, stiamo parlando di anni di vita meno. Bene, la disuguaglianza è aumentata, come sappiamo, perché nel reddito, calcolato nel reddito, la quota del capitale finanziario è enormemente aumentata, è diminuita la quota dei salari, perché le prestazioni del welfare si sono ridotte e quindi hanno prodotto più povertà, perché la tassazione, il fisco, è sempre meno progressivo in tutti quanti i paesi. Iguale, perché io come lo intendo, mi pareggio bene, dico sì che, no? Cambio no, cambia il chip. Quindi, se analizziamo i dati, lo che si può osservare è che le rende del capitale finanziario ha aumentato moltissimo e, in cambio, tanto i salarii, come la struttura del estado del benestar, come le retribuzioni dei settori più pobres della popolazione, diciamo, hanno baixato. Con lo che, siamo davanti, diciamo, di una progresiva situazione di disigualità, ma credo che la cosa che più ci interessa, diciamo, e che è la più grave, è che la povertà è aumentata perché è diminuito il potere di chi combatteva per un'alternativa, perché c'è stata in questi anni una drammatica decomposizione della forza lavoro, vale a dire di quella classe che, secondo Marx, e anche secondo molti di noi, aveva il ruolo storico di seppellire il capitalismo. Pensate, la manifattura, il sentore centrale della classe operaia tradizionale, rappresenta oggi in Europa solo l'8 e il 9%, praticamente niente, solo in Germania ancora il 19%, perché la Germania è una struttura industriale più tradizionale. Si ricordava come la razza di tutto questo ha a vero con la discomposizione o con l'offensiva per esarticolare non tanto il mondo del lavoro in generale, come un segmento, diciamo, chiaro, del mondo del lavoro, che è la classe lavoratoria, e se ricordavano i dati della popolazione occupata in Europa dedicata alla manufattura che asciende solo al 8 o 9%, e solo nel caso dell'Allemania, che ancora conta con un parco industrial importante, che è al 19%. Lo sfruttamento è sempre pesante, ma le sue forme sono cambiate. La classe è frammentata socialmente, economicamente, ma anche culturalmente e politicamente, perché il grande corpo del lavoro atomizzato è oramai dentro una cultura esasperatamente individualismata, perché si è perduto grazie alla frammentazione sociale ed economica il senso di appartenenza ad una condizione collettiva, che è naturalmente la precondizione della soggettività collettiva. Evidentemente, la explotazione non solo non desapareció, sino che incluso, diciamo, se hizo más fuerte, lo che, diciamo, la diferencia è che ora mesmo, lo che antes, diciamo, la classe trabajadora è cada vez más fragmentata, e lo è per le nuove forme di lavoro, però lo è anche politicamente, culturalmente, econòmicamente, lo che vuole dire che se desaparece la capacità, diciamo, di lavoratori di riconoscere come colettivo, evidentemente, desaparece di maniera o di maniera molto evidente la capacità di difendere. Noi in Italia la chiamiamo uberizzazione per via di Uber, la società dei taxi. E' facile vedere com'è cambiata la cultura. Il lavoratore di Uber, molti, si sentono come lavoratori che non hanno più il padrone, mentre sono soltanto dei lavoratori che non hanno contratto, cioè molto peggio, ma c'è questa sensazione di essersi liberati dal lavoro dipendente. In questo voglio dire che c'è un mutamento anche culturale che c'è stato da parte degli stessi sfruttati. E le nuove forme di sfruttamento sono ormai molto differenziate. I contratti, io mi riferisco soprattutto alla realtà italiana, ci sono sempre meno contratti collettivi di lavoro e sempre di più, che sono sempre più rari, e sempre di più nella stessa fabbrica e per lavori uguali vengono applicati accordi differenziati, anche perché sempre più le funzioni di lavorative vengono date in appalto a ditte esterne, con l'outsourcing, perché una grande massa dei lavoratori della logistica sono falsi lavoratori autonomi, sono lavoratori dipendenti, mascherati, perché i lavoratori sono geograficamente dispersi, inoltre perché ci sono le delocalizzazioni che sono sempre più frequenti. Il risultato è che mobilitare questa forza lavoro è sempre più difficile. in Italia si utilizza il concepto di uberizzazione per definire questo fenomeno e questo viene dalla idea che i lavoratori di uber che in fondo sono in condizioni terribili, non percebbero questa di uber ricordare come i lavoratori di uber si sienten liberi perché credo che non non hanno patrón in realtà lo unico che non non hanno è il contrato e per lo tanto la sua condizione è peore di l'asalariato di hace un'anni década e ricordare come cada vez più meno contratos colectivi e incluso dentro le mismas empresas hai posiciones e contratos molto diferentes entre e e è per la propria politica delle empresas e per il hecho che dentro della misma empresa hai un fenomeno che qui lo aggiungo io è especialmente presente che è la subcontratazione e dentro della misma empresa incluso gente che fa il stesso lavoro tiene condizioni diferentes perché da un punto di vista legal depende di empresas diferentes per lo tanto questa diversità questa fragmentazione che también se refleja una fragmentazione e una dispersione geografica bastante importante hace que cada vez más sea difícil organizare a los trabajadores quindi ci troviamo di fronte ad un nuovo tipo di proletariato di forza lavoro sempre meno industriale e che potremmo dire è una forza di lavoro in basso che addetta ai mille mestieri che servono a fare vivere la nostra società civilizzata mille mestieri necessari a noi alla nostra vita mille servizi che sono necessari ed è un nuovo proletariato la cui unità è difficile instabile e anche molto improbabile perché il capitale ha passo dopo passo eliminato tutto ciò che produce coesione diversificando le forme delle relazioni lavorative stiamo davanti di una forza di lavoro che si può definire per abajo in realtà si tratta di una forza di lavoro composta per mille di tipi di lavoro che ora mesmo ti con il sector servizi e la unità di questi lavoratori è difficile inestabile e probabilmente o meglio detto improbile sarà molto difficile construirla in questo sentido Luciano ricordava come le nuove forme di capitalismo si hanno impegnato e impegnato molto in desarticolare qualche mecanismo che possa funzionare come coesione dei lavoratori e per di più il capital è stato capace non solo di sfruttare il lavoratore in quanto lavoratore ma è riuscito in qualche modo a coinvolgerlo spingendolo a sostenere il sistema che lo sfrutta rendendolo un risparmiatore un consumatore seducendolo sui vantaggi che offrirebbero le assicurazioni private e sulla felicità di divenire un microbico azionista magari con con l'aiuto dei fondi pensione che lo incitano in questo senso come alternativa al welfare e così oggi abbiamo un lavoratore spaventato per le trasformazioni del mercato del lavoro terrificato dalle trasformazioni del sistema delle pensioni e per le incerte fortune degli investimenti che è stato spinto a fare e infine un creditore indebitato perché dipendente dai crediti bancari che come le banche come i pusher che danno la droga lo hanno spinto a fare crediti per comprarsi la casa questo o quello e poi per di più aggiungiamo che è spinto ad essere fascista per via dell'immigrazione un quadro incredibile la forma di explotazione dei lavoratori si hanno in certa maniera come dire perfeccionato perfeccionato tra altre cose perché il proprio sistema che ha conseguito fare è cambiare le loro coordinazioni anche culturali del lavoratore il lavoratore si ha trasformato o il sistema querido che si è trasformato in un lavoratore in un consumatore in una persona che confia in i seguros privati e incluso le ha ofrecito il sogno o il ingaio di poter devenir un mini accionista un accionista il risultato di un lavoratore che sta preoccupato che sta terrifichato per le sue condizioni lavorali che sta preoccupato per lo che può passare nel futuro e un lavoratore che ora si ha diventato in un deudor di bancos e in una persona cautiva tanto per completare il quadro diciamo che ci sono oramai nuove contraddizioni diverse da quelle capitale lavoro anche se pur sempre a questa contraddizione collegate che sono andate emergendo negli ultimi decenni la contraddizione di genere quindi il femminismo la contraddizione ecologica la contraddizione etnica con tutti i rigurgiti identitari revival identitari e così via e tutto questo hanno portato sulla scena nuovi soggetti nuovi movimenti diversi il movimento ecologista il movimento femminista e così via che trovano però espressione in forme diverse da quelle tradizionali con movimenti diversi da quelli tradizionali del movimento operaio dico tutto questo perché anche questo sebbene sia una ricchezza ma però rende sempre più difficile devo avere perso questo no sempre più difficile di declinare il noi dire noi è sempre più difficile perché dentro i nostri stessi movimenti ci sono tutte queste diversificazioni di culture e di pratiche con queste trasformazioni hanno afflorato nuove contradiccioni che tenen che ver con il gênero con la sostenibilità ambientale con la relazione entre culturas e entre gente di procedenze diferentes con le quali hanno afflorato nuovi sugetti e nuovi movimenti che hanno roto con le forme tradizionali típiche delle lutze dei movimenti sociali propi del movimento obrero e che a pesar di che evidentemente representano una riqueza importante facendo che cada vez sia difficile poter conjugar un nostro che possa abarcare diferentes aspectos io credo che la crisi che affligge buona parte della sinistra in Europa e certamente anche l'indebolimento del sindacato che c'è in molti paesi è quella che produce diciamo anche le sconfitte elettorali della sinistra che hanno la loro origine nell'assenza di questa percezione del noi di una collettività e per questo la rappresentanza politica non è più lineare una volta gli operai votavano per la sinistra i padroni votavano per la destra adesso che abbiamo questa minestra davanti a noi di frantumata di lavoro più di nuovi movimenti che sono diversi e non si riconoscono con quelli tradizionali la rappresentanza politica è molto più difficile e come dire e la scelta non è più ovvia non è più chiara la trasposizione politica di precisi interessi sociali e di conseguenza i partiti della sinistra hanno perduto la capacità di rappresentanza che aveva dato loro forza e legittimazione soprattutto e il loro declino è il riflesso di questa crisi la scelta del partito da votare è diventata spesso oscura e dipende dalla capacità di comunicazione di questo o quel leader e la sinistra ha finito così per essere quella che proclama vaghi valori laddove Marx ci aveva insegnato a leggere la società attraverso la griglia del conflitto di classe e dunque nel prendere coscienza dell'antagonismo fra oppressi e dominanti adesso è tutto molto più confuso tant'è vero che se prendete il mio paese la gente vota Grillo vota Lega vota qualsiasi cosa sia che di sinistra che si operaio se no bene Lussana dice che la crisi della izquierda e i sindicati nel fondo procede tutto questo che abbiamo detto fino a ora è a dire di questa fragmentazione e al final acaba producendo anche le crisi electorali questo lo aggiungo io sono una traductora un poco indisciplinata nel caso di Italia francamente è dramattica la question è dramattica è per pegarse un tiro e dicia soprattutto con questa fragmentazione utilizzata la parola minestra in Italia una minestra o un minestrone è una sopa heita con moltissima verdura differente per lo tanto da la idea questa di la fragmentazione hace che i gruppi sociali non voti di maniera lineal è a dire non è chiaro che settori sociali popolari o di classe trabajadori apposten per opzioni di esquerda hacía referenza nelle ultime elezioni nelle ultime elezioni nei distritti diciamo tradizionalmente di esquerda la gente ha votato 5 estrellas ha votato Lega ha votato cose diciamo variopintas e si è così dire che al final la opzione del voto non se juega in un plan ligato alla pertenenza social sino che se juega soprattutto nel plan della comunicazione e questo significa che nos alejamos cada vez más del método che in certa maniera Marx nos ha deixato legato che era intentar interpretare la società e per lo tanto optar per una cosa o per la otra a partir de los interessi materiales y en cambio digamos ahora todo se juega sobre los valores que son bastante abstractos la crisi dell'aspetto più grave della crisi della democrazia che oggi avvertiamo è questa caduta di legittimità caduta di una capacità di rappresentanza delle forze politiche della sinistra in cui metto partiti sindacati e tutto quanto più ma questa vuoi tradurre questo poi ne dico un'altra oppure parto un'altra l'altra è che in questi anni c'è stata non solo la privatizzazione di qualche linea ferroviaria o di qualche servizio pubblico ma la privatizzazione più grave è la privatizzazione del potere legislativo il grosso delle decisioni non viene più preso né dai nostri parlamenti nazionali né dal parlamento europeo ma da nessun organismo democratico il grosso delle decisioni che contano sono la conseguenza di accordi commerciali privati presi dal grande capitale finanziario commerciale a livello globale faccio un esempio la Bayer che pochi mesi fa ha comperato la Monsanto e che ha creato quindi una grande multinazionale di un prodotto che è vitale per la nostra esistenza perché significa sementi agricole eccetera le conseguenze di questo accordo puramente privato sono molto più pesanti per la nostra sopravvivenza di quanto non siano chissà quante decisioni prese dai nostri parlamenti il che significa che come dire non abbiamo più la controparte non si sa più dove sta il palazzo d'inverno per intendersi se io occupassi a Roma palazzo Chigi tutti riderebbero perché il potere non sta lì sta nella Bayer nella Monsanto e questo ha determinato una come dire una caduta dell'interesse alla politica perché la gente non è stupida capisce che col suo voto in fondo non è che decide tanto decide poco che tanto le decisioni sono prese altrove e questo è un aspetto della crisi della democrazia molto pesante ora sì ora sì due punti importanti di agnostico per dirlo così sulle la situazione che viviamo ora uno evidentemente la crisi di representazione della izquierda è quello che diciamo hasta questo punto hasta questo momento se ha fragmentazione e gli partiti della izquierda e le partiti e le organizzazioni in general per lo tanto anche le organizzazioni sindicali diciamo già non existe una forma colectiva di declinare è dire che moltissime delle decisioni che afectano di maniera grave di maniera significativa nella nostra vita non si toman dentro di parlaments non si parlaments regionali non si nazionali non incluso del Parlamento europeo la maggior parte delle decisioni che si toman e che inciden molto sobre la nostra vita si toman in despachos oscuros e per accordi commerciali hacia l'exempo della Bayer che ora ha fatto un accord e ha comprato la Monsanto e le conseguenze di questo accord che evidentemente è inauditabile e incontrollabile saranno decididamente più importanti di qualsiasi decisioni che si toman in qualsiasi Parlamento allora che facciamo allora che facciamo io credo che la prima cosa e la più importante che dobbiamo fare è cercare di ricostituire la rappresentanza di questo mondo del lavoro frantumato e attraverso una ricomposizione di questo corpo frantumato i sindacati in Italia sono arrivati tardi a capire a rappresentare questo corpo frantumato adesso si è cominciato c'è stato un accordo sulla Amazon anche qui e in questi giorni se leggete i giornali italiani c'è una grande discussione su i rider e su Fudora i rider sono quelli che portano in bicicletta e Fudora e ci sono oggi due diverse sentenze Tribunale di Torino e Tribunale di Milano il Tribunale di Torino dice no i lavoratori di i rider i lavoratori di Fudora non sono dipendenti sono lavoratori autonomi indipendenti il Tribunale di Milano dice no quelli di Fudora sono dipendenti ma invece i Pony Express che sono altra cosa quelli sono invece autonomi e sapete perché? perché quelli di Fudora dipendono dagli algoritmi e cioè dalla app degli algoritmi che dal quale poi prendono il lavoro e quindi quella è un'imposizione mentre i Pony Express prendevano le loro indicazioni attraverso la radio e quindi non è la stessa cosa e quelli sono autonomi capite in che pasticcio ci troviamo cioè che traduce no si nos perderemo e qui la pregunta è la pregunta è sempre e ademais ora todavía más 100 anni despues che è che hacer la pregunta è che hacer e la prima cosa che tendriamo che hacer secondo Luciana è reconstruire la representazione del mondo del lavoro questo corpo che sta tan desarticulato tan desvertebrato per dirlo in certa maniera se veria reconstruirlo e diciamo in Italia lo sindicato ha arrivato tardi lo sindicato ha arrivato un poco tardi anche in l'ultimo tempo se hanno posito le pida per dirlo rapido recentemente ha avuto un accordo sobre Amazon e e ora incluso in termini di sentenze per lo tanto desde un punto di vista legal hai un debate molto grande un debate sobre los riders es decir sobre los trabajadores los de Wallarù o los los trabajadores los mensajeros digamos estos que van en bici o en moto e de momento tenemos dos sentencias diferentes una del tribunal de Turín que dice que no son trabajadores por cuenta ajena sino que son trabajadores autónomos hai una sentencia del tribunal de Milán que dice en cambio que si que son trabajadores por cuenta ajena y los diferencias los diferencia de los mensajeros para decirlo así de toda la vida que en ese caso si que son trabajadores autónomos porque cogen sus comandas de la radio y por lo tanto como no son digamos esclavos entre comillas de un algoritmo si que son trabajadores autónomos dicho de otra manera como decía Rusana digamos hai gran confusión bajo el cielo como mío bajo el cielo de lo que juridicamente se puede dictaminar abbiamo avuto un accordo almeno una vittoria pero a Bologna dove fra sindacato e comune si è riusciti a fare un accordo molto strano con i laboratori di Fudora ed è stata la prima vittoria e il primo maggio finalmente si è celebrato l'ingresso nel mondo diciamo del lavoro contrattato quindi del sindacato di questi lavoratori che non ci erano mai entrati questo per dirvi che si comincia ma con grande fatica comunque siamo di fronte ad un attacco lo sappiamo bene al sindacato in quanto tale anche che nasce dalla riduzione del lavoro necessario e qui si impone un tema che è il tema che stiamo discutendo da per tutti completamente separati l'uno dall'altro la questione del reddito di cittadinanza o il reddito di inclusione ha molte nomi questa cosa ma è un problema che avremo e cioè di fronte alla riduzione del lavoro necessario per via delle tecnologie e l'aumento dei senza lavoro soprattutto di gente giovane che non ha mai lavorato quindi non rientrano nella categoria dei disoccupati che sono quelli che lavoravano e poi diventano disoccupati ma sono giovani che non hanno mai lavorato si impone il tema del salario di inclusione è un tema difficile non lo affronto neppure perché molti aspetti complicati ma io credo che questo sia un tema che i sindacati europei dovrebbero discutere insieme per farne una grande campagna europea comune arrivare ad una proposta comune che è un problema storico che ci dobbiamo porre ricordato come ha habito una esperienza in Bologna grazie a un accordo entre il sindicato e il ayuntamento con Fudora e in ese caso sì che questi lavoratori finalmente hanno acabato entrando nel sindicato per lo tanto si sta empezando a fare cose anche che è tremendamente lento per l'altro l'altro abbiamo una situazione di attacchi a los sindicati abbastanza generalizzata e finalmente abbiamo un tema che vale per todo il mondo e che è il gran debate che tendremo e che in questo momento stiamo tenendo tutti e tutte di forma separata che è la reduzione del lavoro necessario come risultato della robotizzazione del mondo del lavoro questo evidentemente nos lleva di maniera praticamente automática al debate sobre la renta garantia di cittadania o il salario di cittadania ha cogito diferentes nombres a lo largo dell'oranzo di Europa e ademais significa diciamo anche cose in parte diferentes e lo che dice Luchana è che in realtà è un debate che leggi di fare tutte e tutte separate se deve fare a nivel europeo e poter fare una proposta che fosse compartita per il conjunto dei paesi europei Comunque credo che di una cosa dobbiamo essere coscienti che non riusciremo ad arrivare ad una ricomposizione di un blocco sociale antagonista sulla base semplicemente delle domande e delle rivendicazioni immediate ma viste le diversificazioni di collocazione sociale e di cultura la riunificazione richiede una mediazione politico culturale molto più complessa non è un caso che sebbene diciamo e continuiamo a dire che c'è da una parte l'1% che guadagna tot e il 99% degli sfruttati il 99% non vince mai perché il 99% è facile da unirlo nella protesta ma appena si va ad una alternativa quello stesso 99% si frammenta in modo in mille pezzi perché quel 99% non è homogeneo in tutto caso dice che 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 non potremo reconstruire un bloco social antagònico in certa maniera al sistema a partir solo di reivindicazioni che sean inmediate qui harà falta e harà falta molta mediazione politica diciamo qui è abbastanza facile o ha sido abbastanza facile in diversi scenarii unire il 99% nel momento di protestare e di impugnare il sistema però è molto difficile juntarli e plantear una proposta politica conjunta nel momento di fare una proposta perché este mismo 99% presenta ora un'esperienza culturali di procedenza e di situazione personal e colectiva abbastanza più importanti e allora per fare questa cosa io credo che dobbiamo tenere conto che dobbiamo costruire un blocco sociale non c'è più un gruppo sociale che nella sua spontaneità può essere l'alternativa come era la classe operaia descritta da Mars ma che andiamo abbiamo la necessità di costruire un blocco sociale cioè una alleanza di gruppi sociali diversi che potranno anche esprimersi in forme organizzative diverse noi siamo stati abituati nella storia a avere partiti politici che rappresentavano tutto e in qualche modo oggi dobbiamo sapere che ci sono i partiti che ci sono i sindacati che ci sono nuove forme di espressione i movimenti che con i quali che i partiti hanno guardato con diffidenza perché si muovevano sulla base anche di culture di pratiche di lotta diverse e con i quali bisogna che i partiti abbiano stabilito un rapporto come dire dialettico anche perché questo è necessario a far perdere ai partiti la loro come dire autoreferenzialità quasi che fossero gli unici legittimati a fare politica la seconda diciamo che abbiamo che facere è come facerlo prima ci siamo che facere e ora ci siamo che facere come facere e quindi qui Lusanne introduce un concepto che è clave che è construir un bloco social è a dire un bloco social in queste condizioni non emergerà quasi natural sino che tendremo che ponere le mani a la obra per construire un bloco social lo cual significa che tendranno che fare alianze entre gruppi diferentes e tendranno che cambiare la relazione dei partiti tradizionali della izquierda o incluso di qualche tipo di partito abbiamo che abbandonare la idea che i partiti lo representano e possono representare tutto sino che questi partiti tendranno di dialogare confrontarsi tener una relazione dialéctica con movimenti sociali che a lo miglior procedono di culturazioni e di mani di imaginarse incluso la aczione politica che è molto differente anche perché i partiti sia nella tradizione socialdemocratica sia nella tradizione comunista tutte e due hanno una cultura ossessionata dal potere centrale i socialdemocratici da prenderlo per via parlamentare i comunisti per altre via ma ossessionati dal controllo del potere centrale mentre il problema e quindi hanno uno statalismo che dobbiamo combattere perché io credo che Gramsci avesse ragione quando diceva che il problema è certo che c'è il problema del potere centrale ma il potere centrale non si prende se prima non si è conquistata la società e la separazione che c'è stata sempre più fra i partiti e la società ha prodotto uno sbandamento totale della società che va riconquistata e allora ci servono i movimenti che sono stati più vicini alla società ma movimenti che devono essere capaci non solo di protesta ma anche di costruzione di forme di organizzazione di democrazia organizzata che sia un'espressione diretta della società che abbiano un carattere più consolidato più stabile permanenti forme di democrazia organizzata permanente e adesso faccio qualche esempio faccio una reflexione recordando come tanto le tradizioni e le grandi tradizioni del movimento obrero tanto la comunista come la socialdemocrata sempre hanno sempre hanno una certa obsesione per la conquista del poder e concretamente del poder central di andare al centro neurálgico del poder e questo al final ha acabato revirtendo una cultura politica che è fondamentalmente estatalista una volta conquista il Estado lo altro vendrà quasi naturalmente e quindi ricordava come in cambio Gramsci había entendito Antonio Gramsci había entendito ben che sicuramente è importante la conquista del poder central però prima 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 di dirigirnos a la conquista del poder central abbiamo che ganare la società e in questo seguramente i movimenti sociali negli ultimi anni o negli ultimi décadas hanno molto che aportare sempre e quando questi movimenti sociali possano possano mecanismi di democrazia che sean un po' più consolidati superi la fase della explosione movimentista directa per dire qualcosa Gramsci in carcere pensando al stato e rivoluzione di Lenin che vi ricordate che parlava dell'estinzione dello stato ha scritto delle pagine che a me paiono molto ancora utili oggi dicendo c'è bisogno oltre che le forme di democrazia delegata di creare delle forme di democrazia diretta e parlava li ha chiamati soviet perché soviet vuol dire consigli semplicemente non consigli per l'insurrezione ma invece riconquista di funzioni espropriate dalla burocrazia statale funzioni di autogestione della società che via via debbono essere riconquistate espressioni appunto di una democrazia direttta cioè spazi di autogestione e in questo senso passi di autogestione di riconquista di gestione della società lui intendendo diciamo come pezzi passi avanti per riconquistare un potere che oggi detiene il monopolio dello Stato Gramsci di di in la carcer reflexionando sobre questa revoluzione scrive che a parte della conquista del poder facciano falta formas di democracia direccia di soviet non non tanto per la insurreczione sino per liberazione e per la gestione nel fondo lo che planteava era riconquistare espacios di democracia direccia direccia riconquistare espacios che in questo momento sono a manos del Estado per che la società possa decidir di forma più directa e non delegata ora direte che sono matta perché vi parlo dell'estinzione dello Stato di questi tempi ma guardate non è un'utopia il sindacato assieme ai movimenti è stato il rapporto movimenti sindacati dopo il 68 in Italia è stato molto antagonista e però anche alla fine molto positivo si è riusciti a creare qualche cosa che somiglia a quello che dice Gramsci consigli di fabbrica che non erano organismi puramente sindacali ma espressione di già di un potere politico e cioè di una proposta di riorganizzazione del lavoro e dei rapporti di lavoro dai consigli di fabbrica sono nati i consigli di zona vale a dire la trasposizione di questo potere dal basso nel territorio per consigli che quindi si occupavano della questione della salute della questione delle case della questione dell'assetto urbanistico e cosa via e sono stati come dire un'esperienza grandemente positiva e che io credo vada reinventata anche perché oggi fra tanti disastri che ci abbiamo abbiamo una cosa positiva e cioè è cresciuta in tutti i nostri paesi una molteplicità di esperienze di solidarietà di volontariato sia rurali che urbane alcune nuove centri sociali come reti ciudadanos sharing economy eccetera o alcune che riprendono vecchie tradizioni come le cooperative molte ad opera delle organizzazioni cristiane insomma una grande lavoro attorno al concetto di beni comuni ecco tutta questa roba io credo che sia una buona base di partenza per rendere per passare un gradino in più diciamo che è il consolidamento di veri e propri consigli che correggano la democrazia attuale e ricreino degli organismi come dire fra le istituzioni e la gente con gli organismi intermedi che sono il sangue della democrazia di me tomate per loco io credo che la idea della distinzione del Estado in todo caso la limitazione del Estado in la toma decisiones è possibile di che abbiamo di esempio importanti nel caso italiano dopo del 68 che sono 50 anni c'è una relazione bastante dialéctica entre le nuove forme politica e le nuove forme sindicali e si è arrivò a la constituzione dei conselli di fábrica che iban un poco más allà perché facendo sindical però a l'ora la verità anche incidia nella reorganizzazione della propria estructura del lavoro di esa empresa e di esa escala passano a los consejos de zona e in fondo esto può essere una inspirazione per lo che tendríamos che tener in este momento entre altre cose perché non estamos tan mal perché tenemos una serie di experiencias che che con la solidarietà con cooperativismo con e diferentes digamos extracciones culturales tanto propria más de nostra tradizione come católica che possono essere una base un punto di partida per volvere a una estructura per conselli queste cose sono anche molta ingenuità molto spesso questa forma di volontariato di auto organizazione giovanile che però sono delle esperienze certamente creative io credo è necessario dargli una maggiore consapevolezza di essere non soltanto carità ma di essere un pezzo della costruzione di quello che Gramsci chiamava case matte cioè un potere dal basso che comincia a crescere nella società e che quindi è come dire la preparazione di una preparazione di un'alternativa in cui l'opposizione non protesta ma comincia a gestire in questo lavoro siamo fallecilitati dal Papa il quale parlando ai movimenti a un certo punto è detto da un Papa mi pare interessante che rivolta ai movimenti che sono più o meno quelli uguali a quelli nostri laici e cristiani gli ha detto ragazzi la carità è molto importante ma ci vuole la politica e con questo diciamo tanto più noi possiamo dire questa cosa possono parecere anche forme di organizzazione ingenua perché hai formas autoorganizzadas che possono parecere ingenue però al stesso tempo sono creativas e io credo che se crea che se tiene che in valor e soprattutto se tiene che conjugar dentro di un progetto politico e dentro della idea che è una preparazione per un planteamento di alternativa che può essere viable e ricordavo come al fondo anche Papa Francisco ha questo stesso idioma in certa forma l'ultimo incontro che hizo con i movimenti catolici le dici a que la carità è importante ma più importante è la politica l'ultima cosa per finire io non credo che il problema della sinistra oggi dei sindacati di tutti è più complicato perché non basta più se vogliamo raggiungere l'uguaglianza porci il problema di una distribuzione più equa degli stessi beni prodotti nelle stesse forme e consumati nelle stesse forme la sinistra oggi si caratterizza e solo così potremo arrivare all'uguaglianza se non no perché noi vogliamo che ci siano beni diversi nuovi diversi dal passato prodotti in modo diverso e consumati in modo diverso questo è quello che caratterizza oggi la sinistra che cosa voglio dire che produrre le stesse cose nello stesso modo oggi produce catastrofi ecologiche ed è impossibile e noi dobbiamo porci qualcosa di diverso faccio un esempio pratico è una catastrofe pensare che ci sono totalmente irrazionale che ci siano supermarket pieni di beni superflui quando invece la domanda per i consumi collettivi che sono la salute che le città funzionano l'istruzione sono completamente in evase è il meccanismo capitalista in se stesso che produce profitto invece che valori d'uso e questo è la cosa che noi dobbiamo con più coraggio spiegare alla gente che questo problema dell'uguaglianza deve rimettere in discussione il meccanismo stesso del capitalismo e che non c'è altra via perché pensare di fare più bene da distribuire a tutti questo sarà sempre più impossibile e dobbiamo cambiare l'ottica ma del resto l'infelicità della gente è prodotta lo sappiamo bene un nonno che si ammala per una famiglia è una tragedia perché non si sa dove metterlo e avere tanti prodotti inutili al supermercato è inutile se non non sai dove metterlo ora il problema dell'iscrizione è ancora più difficile non solo dell'iscrizione ma anche dei sindicati o di tutti quelli sugetti che vogliono o se pongano come obiettivo la igualità perché ora non è solo intentar buscar la forma di distribuire lo che si producì e per lo tanto a lo mejor producir più per redistribuire più sino che lo che tendrà che explica lo che tendrà che conquistare è che che abbia benes diferentes produciti e consumiti di maniera di maniera di e c'è l'exempo di super è impensabile non tiene nincun sentido che super esten totalmente llenos di bienes che sono totalmente superfluosi e che halla un cambio una falta di servizio endemico è dire qui nos tenemos che preguntar realmente che demanda ha e che oferta ha in certa manera per lo tanto questo nos lleva e qui acaba a intentar querer explicar che il problema non è come redistribuire lo che se produce dentro del capitalismo sino poner en tele juicio il mecanismo del capitalismo basta prossima volta